Amici di Italian MMA, eccoci quindi con Edoardo Cagliazza, uno degli attesissimi protagonisti del prossimo Cage Warriors di Roma, ma prima di parlare di questo evento gli chiediamo della sua esperienza qui in The Fight Academy a San Diego, dove ci troviamo in questo momento dopo la conferenza stampa di presentazione. Edoardo, la tua impressione su questi due mesi circa qui in The Fight Academy, che cosa ti ha dato fino ad oggi? Beh, sicuramente mi ha dato l'opportunità di scoprire molto di più su me stesso, confrontandomi con nuovi atleti da tutto il mondo, con dei coach che hanno allenato diversi campioni nel mondo, Jake è coach Jiu Jitsu e la cintura nera di BJ Penn, mentre Mark Fiore ha allenato gente come Cody Garbrandt, Robbie Lawler, Matt Hughes, gente di questo calibro. Ho scoperto sicuramente come mescolare meglio riguardo al MMA, perché comunque sia non ero super completo, ho imparato molto di più a mescolare le cose, il grappling, wrestling, tutto insieme diciamo. Mi ha dato la disciplina perché comunque sia più di prima, perché qua magari ci andiamo alle 6 del mattino per andare a correre in spiaggia, a fare gli scatti, andare in parcheggio a fare campanelli di wrestling senza pause, quindi anche la disciplina mi ha dato molto presto la mattina a andare a fare quello che deve essere fatto e è nulla. Quello che sto chiedendo a tutti, perché è un argomento di grandi discussioni in Italia, quanto divario tecnico c'è tra le MMA italiane e quelle che trovi all'estero? In verità non c'è una grande differenza, nel senso che i ragazzi con cui siamo confrontati qua comunque sono di alto livello, c'è che più bravo nel wrestling, nel striking, nel grappling, ma le MMA in sé penso che non ci sono state grosse difficoltà nel confronto, anzi, è molto bene. Parlando degli altri atleti, di tutto il roster che c'è in questa Fight Academy, dopo due mesi che si alleni assieme, qual è l'atleta che ti ha colpito di più in assoluto tra i 20 compagni di allenamento? Allora, scusi i miei compagni... Diciamo anche tra i tre italiani e poi in assoluto, con la seconda, più da tenere d'occhio di tutto il roster. Allora, come sempre, il migliore è sempre Luca Borando per me, siamo compagni di team della vita e è veramente uno degli altri più forti come è conosciuto, più completo e competitivo come ho visto in vita mia, perché mi ha aiutato ad essere una persona migliore e un fighter migliore, quindi lui che secondo me è il numero uno. Degli altri ragazzi qua posso dire che Teddy Stringer è davvero un ragazzo molto forte, sa fare veramente bene MMA e un grappling veramente fenomenale. E' appena arrivato un altro ragazzo, Mario Invetrila, che è un campione in kickboxing e da un po' come fame MMA ed è veramente forte in piedi. Mi ho visto un ragazzo così forte di striking. Parliamo del match di maggio a Roma in Keju Warriors, dove sarete tutti e quattro nella card. Parlaci del tuo avversario, di che tipo di match state preparando, cosa si devono aspettare i fan italiani. Allora, combatterò contro Marco Saracevic, che è un grappler, è una cintura marrone BJJ, ha preso il secondo posto all'IMAF al mondiale nel 2018 e ha partecipato altre volte senza arrivare alla medaglia. Poi è un lottatore molto forte, la terra è molto bravo, un wrestling non male, diciamo che è un buon wrestling, striking, niente di che. Ovviamente sono preparato a puntare al mio striking, sono uno striker, quindi a difendere la lotta, tenere i match in piedi e mescolare bene le cose nel clinch e tenere il match sulla mia punti di forza dello striking. Ovviamente se c'è da lottare, sono pronto anche a lottarci, comunque posso far tutto con lui, solamente stare attento con i suoi punti di forza, che appunto è prendere la schiena o da certe posizioni a terra, mezza guardia, guardia, ma assolutamente posso far tutto con lui. Grazie, buona fortuna per Roma. Grazie a voi per averci seguito.